Bentornati nel canale La Vita Curiosa. Prima di iniziare questo nuovo video clicca su mi piace e iscriviti al nostro canale. Christel Carrisi, la figlia di Albano e Romina Power, è stata costretta a prendere una decisione importante molti anni fa a causa della separazione dei suoi genitori. La coppia formata da Albano e Romina Power è stata un'icona di amore e spettacolo per molti anni, ma il loro divorzio ha avuto un impatto significativo sulla vita dei loro figli. Durante una recente intervista nel salotto televisivo di Domenica Inn, Christel Carrisi ha condiviso un aneddoto sconosciuto sulla separazione dei suoi genitori. Ha raccontato che la separazione è stata un fulmine a ciel sereno e ha destabilizzato profondamente la loro felicità familiare. La gente spesso le faceva domande sulla situazione dei suoi genitori, presumendo che volesse parlarne, il che ha creato una sorta di morbosità tra i fan. In risposta a questa situazione difficile, Christel ha preso una decisione importante, si è trasferita in Svizzera. Questo cambiamento le ha permesso di allontanarsi dal gossip e dal chiacchiericcio che circondava la sua famiglia in quel momento. È stato un atto di protezione per se stessa e per la sua privacy, in modo da poter affrontare il dolore e la complessità della situazione lontano dagli occhi del pubblico. Oggi, Christel è una donna nuova, madre di due figli, moglie impegnata in una carriera professionale. Ha superato il difficile periodo legato alla separazione dei suoi genitori e ha cercato aiuto da uno psicologo per affrontare le sfide legate a questa situazione. Nonostante il passato tumultuoso, Christel ha trovato la sua stabilità e ha affrontato la situazione in modo positivo, anche se rivedere i suoi genitori insieme non è stato facile. Grazie di aver visto il video e rimani sintonizzato per non perderti le prossime novità.